Scortata dalle motovedette della Guardia di Finanza, alle 10.10 del mattino del 31 gennaio, la Sea-Watch 3, con a bordo i 47 migranti recuperati lo scorso 19 gennaio nel Mediterraneo, è entrata nel porto di Catania ed ha attraccato nel molo di Levante. Nonostante il via libera lo sbarco a Catania dalla serata del 30 gennaio, la nave è riuscita a salpare da Siracusa, dove era ferma a largo da giorni, solo in mattinata a causa di un guasto al verricello dell'Ancora. Abbracci tra i migranti e l'equipaggio della nave della ONG tedesca, battente bandiera olandese. I migranti, dopo lo sbarco, saranno identificati e trasferiti nelle strutture d'accoglienza. I 15 minori non accompagnati resteranno nella provincia etnea, gli altri saranno portati all'hot spot di Messina. Siamo contenti che il calvario sia finito per i nostri ospiti. Auguriamo loro il meglio, scritto su Twitter la ONG. Speriamo che l'Europa possa accoglierli e permettergli di vivere come meritano.